sono a casa oh si questo è rosa questo è arancione questo invece è un bel blu ora un bellissimo giallo e questo è verde questi sono i colori fantastico beviamo il rosa oh si oh Jason wow anche io voglio avere una bevanda rosa no questo è solamente per bambini solo per bambini? no ma io voglio giocarci me ne andrò oh oops Jason ho bisogno di aiuto Alex ha bisogno di me andiamo che cosa è successo? questo monopattino è a terra oh no così va meglio ok vediamo che c'è qui ok oh oh ah ah l'ho resa tutta di sabbia sì che cosa è successo alla bottiglia? è piena di sabbia oh no è tutta piena di sabbia eh e adesso non posso più bere niente come cavolo è successo? sì questa è la bici di Jason oh la la Jason 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 la tua bici eh la mia bici oh scusa devo andare a dopo ciao oh no la mia bici così va meglio oh sì yeah ora è sabbia che cosa è successo alla bottiglia? che cos'è questo ragazzi? ma che diavolo è questo? ragazzi ditemi voi che cos'è? oh mi sa che questa è una magia eh 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 mi sta ridendo lì oh cavolo mi hai visto? ah oh no oh no ah ah oh 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 scusami mi hai beccato scusami scusami sei stato cattivo e questo non te lo meriti chiaro? è solamente mio mh ah non ho più niente oh wow due bottiglie sono solamente mie le berrò oh sì perché non la facciamo pagare ad Alex? eh ah che cosa sono? eh e sono vuote oppure sono piene ma di che cosa? oh no questa è la mia bottiglia oh no oh no oh no oh no oh no oh no non ho più da bere adesso mmm ciao ciao ragazzi oh no Grazie.